C'è questa coppia bellissima nel spettacolo, Igor e Anastasia, loro viene della bella russa, sono a porto per fare solo questo spettacolo, proprio bellissimo, va a vedere subito quello che arriva lì, chi è Igor e Anastasia, un bacio a loro, Igor e Anastasia, viene a vedere alle 7 e alle 9, e per finire la sera la...